la ora questa è il pizzo di due che dice defkare il pizzo accettato a due si, non è niente la città è in privata, glielo si dice fatto la pia buonasera buonasera a tutti, guayu ciao un po un altro dal posto di blocco che all'alpino pazzo qual'è quella tua rotta per togliere questo dio di immune questo è tutto bene le ragazze scoghigliamo raffaele andate alla zona indicata e dovreste superare la caccia all'uomo stiamoci sulla scala non scappa pure cari cazzo 18 col durello si grazie rotta la torretta a fuoco ragazzi una curiosità chi è che sta curando chi sono i medici io sono stella solitaria medica io sono andato avanti c'è anche l'immunio dove sta quello c'era Gianni a terra tipo tre minuti e lui non tirava la super la verde mi ha fatto morire senza tirarmi la super qui ha chiesto scusa mamma mia mamma mia super stella quundici come è passata e lui? ma quanto è? mi chiamai ieri sera e stavi proprio a madre di brutto mi chiamai che guarda la live che dice troppo mi chiamai che so passare ragazzi ce l'ho dietro e dietro aiuto poi ce lo possiamo fare pur a terra vala ehi mamma mia che danno te li sciocco vada? scioccati? ragazzi vi sciocco il di tre? nooo mi siete messo avanti spagliamo tutti giù di tre adesso si oh sciccata no ma chi sta sperdata quanto spossiamoci in zee eh com'è possibile non lo so vi vedrò do una passata gialla no ci sono mi unisco così di mano ti chiamai come il blu ma la beta è finita è super dante quella terra destra quella terra ma l'ho distrutto ma io l'ho distrutto devo fare la clip con le darche con le nostre fai uno santo mi tratta spessa che belli incendi alla sopra così li teniamo un poco va incendiari abbiamo uno dire ci dobbiamo fare quello di noi andiamo a prendere che la caccia da dietro attenti venga di qua ragazzo come c'è di qua Tengo la verde o il FNABOLU? Eeeh... Se il vostro missione ti invitiamo! Oh che roba venire! Buon olio! Quella vostra gioia! Ma intanto ha detto che il mio non lo vuoi! Non lo vuoi! Questo è stato! Ma è tra io che posso! Non sono più in vero! No, non ti vede! Sto in tanto la cosa! No, è proprio... E' questo! E' questo! E' questo! E' il figlio dei Gianni! No! E' il figlio dei Gianni! E' il figlio di Gianni! No! Non ti vedo Ale! E' il figlio di Gianni! E' il figlio di Gianni! Aspetta! Te l'incendio! Vala! Vai! Ma che Gianni che stanno inizio! Ok! Sta quell'altro solo di là dove sta pala! Andiamo insieme! Dove vai B***h?! 3 vs tutti ce li mangiamo a colazione alla cura dove stai rodovala, stai lì sciocco all'avanti e come facciamo a fare questa posizione sta perfetto lui non uscite raga non uscite partiamoci lì qua non stiamo bene raga qua non stiamo bene per sparare andiamo più dietro venite qua venite venite vada ce li portiamo nella struttura c'è uno qua vala a destra dobbiamo combattere di qua venite pronto se metti la blu qua è meglio eh oh pure dietro pure dietro è solo uno dietro è solo uno di rovala lo uccidi subito a quello la dietro va la perché scazzo vada sta facendo vicino arrivare ti butto la cura vai ok giriamoci e facciamoci quest'altri come giro come giro un po' pure a terra si è andato fuoco lì secondo me se fate la blu li bistruggiamo raga oh c'è il fuoco oh c'è il fuoco oh c'è il fuoco va giusto raga vai giusto raga Rompete l'immune Perfetto Uccidiamo questo rosa in mezzo a noi Palla quello dal posto di blocco Bravo Mi sono bagnato Mi devo asciugare Andiamo la chiude Andiamo la chiude Andiamo la chiude Andiamo la chiude Andiamo 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 L'ho pensato I nomadi Bumbi Treviso Perverg Minimia Pervergare le palle Non stai Pervergare le palle Pervergare le palle Pervergare le palle